Musica Beh, questo è l'applauso di Domenica Inn e il pubblico in piedi per una delle più grandi artiste della musica internazionale Un grande onore averti qua oggi a Domenica Inn Mariah, questo è il tuo nuovo single, il tuo nuovo disco, il tuo nuovo CD che uscirà proprio per le vacanze natalizie Glitter, esattamente come il film, sei anche protagonista di un film Ecco, è la storia tra l'altro di una cantante C'è qualcosa di autobiografico in questo film? No, la mia vita è troppo difficile per farne un film Ci vorrebbe una miniserie A più puntate A proposito, tu fai un sacco di cose, il cinema, la televisione, viaggi molto Ma quando hai un momento per te stessa? E quando hai un momento per te stessa, cosa fai? Mi piace scrivere musica E quando sono in vacanza a volte mi metto a scrivere dei pezzi E tra l'altro mi piace molto registrare nei capri È difficile però perché si mangia così bene Ci piace veramente lavorare lì È bello mangiare, è il cibo italiano, hai visto? Prima abbiamo scherzato anche con la pizza Ti piace la pizza? I like pizza, but I don't know if I could wear the pizza Sì, però non potrei forse mettermi quel vestito di pizza Ok, sì, staresti benissimo Staresti benissimo La prossima volta allora magari Ok, ok, è una promessa È una promessa Senti, questo album è una raccolta anche di tuoi successi Di canzoni belle che hai scritto e che ci hai regalato Il film abbiamo detto che parla di una cantante Cosa fa questa cantante nel film, in Glitter? È una ragazza che è stata data in affido E cerca di ritrovare la propria madre La madre che ha rinunciato a lei quando era nata Poi si innamora Eccetera, 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 eccetera Poi dobbiamo andare a vedere il film Altrimenti se ce lo racconti tu Senti, tu parli spesso nelle due canzoni di amore Ma è più importante, secondo te Amare una persona, oppure amare la vita in generale? Credo che bisogna amare la vita in generale Ed essere grati di tutte le cose che abbiamo Ma amare anche qualcuno Quindi entrambe le cose Bene, noi amiamo la musica e le canzoni di Mariah Carey Adesso due brani da questo album e dal film Hero e Never Too Far Mariah Carey Ti dai questo? Grazie 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 Mariah Carey a Dominicain Grazie 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 a Dominicain This experience Too painful to Talk about So I'll hold it in Till my heart can make And be brave enough To look at A place in time Still belongs to us Stays beside In my mind In the memories There is silence Oh, never too far away I won't let time erase Won't be the best of day Cause I have burned But oh But it can't take your place I know it can never be I'll give you close to me Always remember Always remember Love Never too far away Da-da-da-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-d Grazie a tutti 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 Grazie a tutti